si si va bene in questo video lo dico scusatemi ragazzi mi segnalavano qualcosa da dire in questo video la dirò allora è quel giorno stesso ragazzi quel giorno di cosa quello dell'altra della prima videoricetta io nella stessa casa ho approfittato anche dell'ospitalità di maria cristina dove ci presenta la regina delle crepe lei l'ha preparata in un lampo ma veramente io sono rimasto sorpreso ma prima di lasciarvi velocemente a questa ricetta velocissima ma buonissima vi dico di iscrivervi al canale ovviamente lasciare un mi piace e commentate ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova rubrica se vi piace e se volete magari che ne porto qualcuna dedicata e preparata dalla nutuzionista quindi con qualche magari particolare in più ok ragazzi vi lascio a questa buona crepe mi raccomando allenatevi bene alla prossima ciao ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti